E' un rapporto con luci e ombre, quello che ha presentato la Commissione Europea sull'andamento dei negoziati per l'adesione della Turchia. Nel suo rapporto annuale, Bruxelles ha criticato in particolare la violenta repressione delle manifestazioni antigovernative a Istanbul. Spiega il commissario allargamento, Stefan Füle. Abbiamo preso una posizione obiettiva, ma critica, sugli eventi di maggio e giugno e abbiamo tratto le nostre conclusioni. Al tempo stesso abbiamo riferito dei numerosi passi avanti, intrapresi nel processo di pace nel sud-est della Turchia. La Turchia ha avviato i negoziati per l'adesione all'Unione Europea nel 2005, ma le trattative procedono a rilento, a causa della questione cipriota, ma anche per lo scetticismo di Francia e Germania. Ci sono delle difficoltà anche da parte dell'Unione Europea, bisogna ammetterlo. Ci sono sfortunatamente stati membri che non sono molto onesti con la Turchia, che hanno pensieri nascosti sulla Turchia, spiega il direttore del Centro degli Studi di Politica Europea, Bruxelles. Ma credo che l'Unione Europea potrà risolvere i suoi problemi interni. Concludo la nostra corrispondente turca. Il rapporto della Commissione Europea saluta con favore il pacchetto di misure per la democratizzazione del paese, annunciato dal premier turco Recep Tayyip Erdogan a fine settembre, e sottolinea l'importanza di tradurre in azioni concrete le misure. Dopo un lungo periodo di stallo, i negoziati con la Turchia dovrebbero ripartire nei prossimi giorni. Grazie a tutti.